E scusa, e bene a tutti i ragazzi Calmiamoci E bene a tutti i ragazzi, sono Capri Gamer Oggi sono insieme a Brigo Brigante Oggi andremo al laboratorio raconici Muoviti Brigo Brigante E ragazzi, e si è ritornato Raga E' ritornato per il semplice motivo Perché mi invitava sempre, si traspammava E io non li accettavo, non so neanche io perché E ragazzi Si, questo è un video purtroppo Non la live, la live l'avrei Già startata 50 anni fa Se no me l'avessero bannata Brigo Brigante dove sei? Non lo so E comunque raga, io cercherò di fare Moltissimi video rispetto Al normale, perché Scusate, me le hanno bannate quindi Nelle live giocavo Molto, quindi cerco di portare Molti più video E ora siamo qui con Brigo Brigante Che è ritornato dopo tantissimo tempo E cercheremo di farla a vittoria reale Raga E ragazzi comunque non siamo degli altri Comunque questa skin è È uno stile È uno stile De una skin del pass di Adira E niente ragazzi Guidiamoci sto game Cioè Lasciate like iscrivetevi E non dimenticate di supportarvi Nel supporto creator di Fortnite Ma sono morti Ci obere a Y Ma Brigo Brigante Cosa stai facendo qui? So No Sono morito Ah ok Grazie del pompa comunque Buttiamo le granate No aspetta che c'è altra gente Buttiamo cosa c'è Non è vero secondo me Sì Che qualcuno fra Sta scendando Sono in due Eeeh Distrutti male Si stavano curando Però io li uccisi Vanno cure Ma qua c'è il luce se vuoi Io l'ho morto Non ho vita Non ho cure Ci sono le splash E poi ci sono gli slurponi Mamma mia quanta roba che c'è qui Hai capito qua che cosa c'è C'è il flipperino che La vita Ti stavano curando Ma io ho tirato un colpazzo di pompa E poi ho spammato con la mitra E li ho uccisi tutti e due Verano forti No perché si stavano curando Quindi erano fermi Però avevano le skin forti Ragazzi comunque Sta skin è super tryharder Secondo me anche per il piccone Cioè secondo me ci sta Poi diciamo Non so Perché sta conquistando Ragazzi bellissimo sto stile Brigobrigante è povero Perché non è riuscito a livellare molto nel pass E c'è solo quello parco da mio Ma è di nebbia Bene prendiamo le ultime casse Poi andiamo in safe A me piace il rumore che fa il piccone ragazzi Senti quando Quando cambiare Fa Sentite Eeeh Una one hit Oh che è ancora con le gramate Oddio mio Quanto spam Adesso sei tu quello messo bene Framo dov'è? Ci sono delle cure scudo Eh cure scudo Nel posto normale Si sta pingando delle casse Vuol dire che c'è qualcosa Cosa ci fai? Cosa ci fai? No qua ti sei proprio magnato tutto Brigo Passa vediamo Eeeh E' già Ma qualcosa di skin non c'è? Oh mi sto rilassando tantissimo ragazzi Sentite che bello il suono Oh fra ma in presente quando prendi colpicecchino Eh Il rumore del colpicecco fa tipo Eeeh Eeeh Che sarebbe tipo nella lingua armese Respira respira Cos'è la canzone di Rodi? Ma come hai fatto a non vedere Vabbè 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 io non ho ancora capito cos'è sto ottimizzatore Però vabbè Io c'ho acrobatello C'ho la skybase Cos'è acrobatello? Ma in che senso? E' la Il deltaplano E' acrobatello Che tu Ah acrobatello Allora vengo anch'io sai Eeeh Mi lancio Ah ma non la facciamo una skybase? No andiamo a bastione brutale Mamma mia Aaaaaa Ma andiamo a push a retto te Andiamo a biancare il record di kill Ma perché non l'ha fatto raga? C'è anche due Adesso c'è Sono pure messo male di shield Adesso anche di vita Andiamo bene No in realtà non è vero Perché ho appena trovato uno shieldone E' un me di nebbia E' c'è tipo Dove? Oddio Attento Ma per favore Non morire Lo ci sono 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 A terra E' a terra C'è il suo amico Lo tipo C'è così Mi sono messo Da dietro Un squad passato Lo ucciso E' tipo Un quadruplo Head Giotto a casa Vai Viene a prendere La scritta Del tuo Bambino Dai Così ti Fatti Un bellissimo Headshot E' se lo ricordo Dai Ehi Tipo Ehi Sì Va bene Spam Dai Spam Dove Tipo Spam Guardalo Come scappa Guardalo 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 Dovera Si era messo Qui Come un bambino Guardalo ma che bambino c'è che infame se mi chiedava così c'è me l'andavo ma c'ero io e ucciso il suo amico in un modo veramente a te mi facevo gli affari miei 9 kg fra di squadra nuovi chili 24 kg e 5 a tutto questo però mi sembrava che tu avessi più chi di me no no perché l'avevo due fatte questi due mi sono fatto o qua c'è roba e cercano conquistato bastione un po di cognitore che me lo preso tranquillamente io simile sedile e lettore per finiture quando esaurisce lo scudo persi ma non mi dire che per e per preso in prestito ha perché si non mi ha preso in prestito dai fra così me lo annulla sito un rumore quando hai messo la taglia è mai sentito a costruire si è il rumore di che sta arrivando lo spazio è appunto era il rumore che arrivava lo smasso di deco tra ligno stavolta perché tutti guarda c'è pure il cambiamento e c'è un effetto e pure il cambiamento non ci credo no fra se si è terra proprio li prenderai a prenderla che noi fermati nere no allora me lo prendo anche io non si è fermato vicinissimo prenderla io da prender quell'altra allora è un po più vantana però vabbè eccolo lì lo smasso di deco era però avvenire lo stesso con me perché se c'è gente che la vuole prendere c'è gente che la vuole prendere come facciamo questo lupo non c'è gente che la vuole prendere e poi questo perfetto adesso come pure abbiamo solamente 6 cittadini che sono molto buoni come ora non c'è lo smasso di deco che no vabbè raga non ci posso credere no però non ha senso io butto via lo smasso di deco ma perché così non c'è o due ossia lo smasso di deco con l'onda energetica quindi non avrebbe senso perché ne occupa spazio ma io fra quando vedo oggette nel box dico anch'io allora vieni con me fra che è soddisfacente che io mi boxo per il falco ricognitore ha tutto trick adesso puoi andare super lontano però stai vicino a te così il wifi te lo ti resta ho in mente un super mega post camper da farti vedere da farti assolutamente far vedere praticamente andiamo a camperare nella grotta no però non mi dire che è già sommersa dalla safe non mi dire non mi dire è proprio non mi ricordo il punto preciso in cui è allora spero se vogliamo in se è qua è qui è qui la grotta a vedere non quella data fammi vedere di quali stai parlando questo c'è un buco ok si questa però non intendevo questa intendevo proprio quella proprio questa qui fra vieni da me c'è il buco si perché io mi ero straboxato qua dentro era troppo forte cioè fai così ti chiudi puoi anche farlo in ferro svolta bellissimo a fare arena arena di tutto chiudi tutto e poi richiudi tutto dai dimmi che in safe per favore gli spiuti ma c'è pure un uomo lì che è stato distrutto ci gente no non è in safe ma dove niente così si no è il mio è il mio amico altro amico vabbè io vado in safe con la nuova speedi io ho preso il nuovo cane visto sia solo visto come piace sì simpatica fra abbiamo consumato tantissimi mazzo per niente alla fine io appena con il fatto codi non ho lasciato ho cagato sento lì una di mia madre codi tra gente lo spessi di dc ma quanti ne abbiamo aperti in questa partita ma è venuta ma fra i metodi alla nuvola speedi e riprendono a che il mio amico lo spiace di dc fra sono buona non è tipo si va e prendilo non ho io non l'ho preso perché mi occupava troppo spazio la mia mia e la nuvola speedi a ce l'hai già uno spiato tutte tra le armi mitiche no no ma la prendono la speedi sennò qua c'è appena appena io spreco una e vedo che non va uso lo spessi di dc magari faccio c'è appunto e gli hai fatto già 100 un nemico non si sta curando e tu glielo rifai se la bella si dovrebbe caricare poi vedere gente boxata così tipo di tiro prendiamo nelle grue enorme no dimmi da questo no costo è piccolo volevo l'altro uno enorme si trovava a ma ce ne sono due di più di queste piazze no secondo me si trova la chiede hanno molto 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 ma la fine o però certo che mi ha distrutto hai capito hai capito i cavi di box che cos'è è i botti sono un abi però spammano o fra ho appena visto una canna la pista che volava mi ha morto non si fa fa tipo con uno spi ma what è la scopola cittipo la cittipo la dove non ho non ho eccolo mi spara ma avete visto che chi l'ho appena fatto quello che lo spara frateggio nato lo strano mi sto curando tipo lì c'è un tipo la sopra mi hai visto no solo in due fra scappa 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 fuga non lo spi di sfortuno distrutto morto però mi spara non mi spammano aiuto fra che bravo porto ha spammato ma questo è una viscata che aveva aveva posto della miti frase se non uccidevi buttavo la carolina sotto letto mi piace fra c'è la pistola no no la mitica c'è mitica cosa fai ma ma perché sei triste ma facendo un video mamma quindi è meglio se non ne parli di questo mi dispiace mamma e solo che mi vergogno un pochino a parlare di queste cose mentre faccio il video ma c'è una piaccia non grigio ai cure e mamma cosa le cure e nodi cobrigo ma devo scoprire degli incubi ma voglio almeno usare una volta arrabbiata con coni e vabbè dai si deve ambientare vieni qui brigo la gente ma io mai non ho la nuova sfide con la sfortuna eccolo di scopo dai 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 è morto ma adesso devi cambiare le coperte si erano quelle morbidose che bello questa musica eccolo è mia madre che fa lo xilofono ok ok meno male che ho l'ottimizzatore che posso volare quindi vieni qua che c'ho il questo perché potrai sto tornando qua che ci sono anche scendini vieni la mia fra faro arrivo dove stai c'era già anche qui braio sono perché sono anche dai nemici ho preso la giunta non ha distrutto aiuto ok orris buono buono con il tp o però 30 salività ci sono 5 che c'è mangiato morto le tg beve morto uno benissimo aveva anche la nuova sfidio non so perché non ho usato c'è gente da me e io sono tipo one shot tipo io no tre meriti ci sono qua che mamma c'è giulio non è che papà fra io stavo uccidendo l'ultimo nemico che però sta restando il suo amico non fa sempre team però sono venuto da te perché mi aveva distrutto quindi siamo due di uno di uno allora usa la nuvole di qua non ho la nuvola però bene vengo lo stesso no ecco l'ho frase sviluppato come me ho a ballare di questo 6 e la giù ma solo no fra aiuto su morto l'ho ucciso l'ho ucciso fra l'ho ucciso con la carina e mea non ti credo non c'è un altro arrivo ecco l'eccolo l'ultimo poi prendi questo boom no no ho finito le cose associano solamente lo sposto di 10 sta provando questo fra e distrutto ma l'ho avvito arrivo no fra però poi l'ho ucciso con kamehameha io devo andare erano sto video sì io devo andare io devo andare ciao 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 che partita raga